E siamo pronti ad aprire le dalle Le avanze di questi cani da compagnia a partire dal Barbone Grande Mole Bianco Barbone Grande Mole Fulvo Barbone Media Mole Nero Barbone Nano Marrone Barbone Nano Fulvo Barbone Nano Nero, Barbone Toy Tibetan Terrier Maltese Bolognese Mi suggeriscono un soccolo, Bolognese Bolognese, dai, su Un applauso, niente Bichon a Paul Frise Bichon a Vanet Cotone de Tulear Cavalier King Chao Spaniel King Chao Spaniel Papillon E Pagnuil Nano Continentale Falen Roskitoi a pelo lungo Roskitoi a pelo corto Carlino Boston Terrier Japanese Chin Lhasa Apso Griffone di Bruxelles Piccolo Brabantino Bulldog Francese Chihuahua a pelo lungo Chihuahua a pelo corto Praschi e Cresale E Pechinese Cani da compagnia Razze selezionate per tenere compagnia 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana Razze che provengono da vari raggruppamenti Da piccoli cani da caccia A piccoli molossoidi Sono splendidi compagni Le loro espressioni simili a quelle di Bambole Grazie ai piccoli musi e ai grandi occhi rotondi I mantelli morbidi e fluenti E i colori accattivanti Ne fanno la scelta preferita per la compagnia Nel frattempo è il momento della preselezione A partire dal barbone Grande Mole Bianco Barbone Medio Nero Maltese Allora Attenzione prego tutti i migliori di raggruppamento Nel pre-ring Grazie Attention please All best in grouping collection ring Thank you E ricordo a tutti i presenti Che l'ente nazionale della cinofilia italiana Offrirà al termine del rindonore Un brindisi natalizio Per scambiarci gli auguri Quindi vi aspettiamo allo stand vetogene Per il brindisi natalizio Nel frattempo la giudice ha concluso la sua selezione Con il Carlino, il Bulldog francese E il Chihuahua a pelo lungo Iniziamo a vedere in movimento Un dicesimo raggruppamento Razze italiane in via di riconoscimento E razze appartenenti all'alleanza latina in via di riconoscimento We need to be recognized and recognized on a local basis Within the Alleanza cinofila latina In the collection ring Thank you Razze in via di riconoscimento nel pre-ring Grazie Barbone grande mole Le caniche royale Razza francese Anche se il grande mole Affonda le sue radici Quasi di più in Germania Insieme al media mole Razza che si origina E porta il nome dell'anatra Canard Caniche si chiama il barbone È il più grande tra i cani da compagnia Barbone grande mole Bianco Barbone in media mole nero Davanti alla nostra giudice E' l'aria biondide Ciabatti La taglia scende Abbiamo una taglia del barbone gigante Che varia tra i 50 e i 60 Più due centimetri di tolleranza Il barbone medio che vediamo È alto dai 35 e 45 centimetri a Garrese Garrese è il punto della schiena Dove si inserisce il collo sulle spalle Maltese Maltese È una razza che è una razza presente già in epoca romana Una razza che come dicevamo Venne tenuta sulle navi Per fare compagnia ai marinai Veniva ritenuto anche taumaturgico Curativo Perché messo in grembo sulla pancia Scaldava lo stomaco e quindi aiutava in caso di digestione difficoltosa È una razza caratterizzata da una colorazione unica bianca Un mantello setoso e liscio Carlino Pag Mops Stessa razza per tre denominazioni diverse Italiana e francese Inglese O tedesca Razza di origine cinese Razza protetta, tutelata E salvata e portata fino a noi dagli inglesi Nel Regno Unito È un piccolo molossoide da compagnia Le carlène Il carlino Il carlino Poi sicuro che mi ringrazio l'isamento di parte, io lo voglio per iscritto che sicuro è simpatico. E dovevo scoprire una rossa di qua. Se siete parte, vedo una buzia. E dopo il Carlino rimaniamo sui piccoli molossoidi, ovvero dei piccoli mastinetti, congenetemi questa definizione, il buldo francese. Chihuahua a pelo lungo, razza messicana, porta il nome di una nazione della federazione messicana, Chihuahua, che è una regione semidesertica al confine con gli Stati Uniti. È una razza che si è molto diffusa prima negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo, è la più piccola tra le razze riconosciute. Una delle caratteristiche peculiari è la testa a forma di mela, si dice, apple dome. Invito sul podio per la premiazione, la consigliera Renata Bonino. Ti vengo ad accompagnare, posso? Benissimo. Si fa il cambio di volta in volta, non è che sia proprio standardizzato. e siamo quindi pronti a chiamare al terzo posto una razza italiana il Maltese al secondo posto una razza che nelle fattezze ricorda le statuine che rappresentano il drago il Carlino e vince il raggruppamento dei cani da compagnia rappresentandolo al Best in Show il Barbone Grande Mone Bianco Grazie! 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 Anche in questo caso Grazie! 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 Grazie!